Di Santa Paola, qual era la ragione per la quale voleva assolutamente che lei ritornasse in servizio attivo? La ragione era riguardo Angelo Santa Paola, in quanto, come avevo detto, non stava alle regole dell'organizzazione, non portava soldi alla bacinella delle imprese, parlava troppo contro i familiari, stava cercando di mettere i gruppi avversi, stava creando diverse ostilità nei gruppi avversi e era tutto un insieme di cose che Enzo Santa Paola mi disse che di lì a poco doveva esserci una seconda riunione con altre persone e mi avrebbe detto un qualcosa che poi mi fu detto nella riunione, diciamo la decisione vera e propria di uccidere Angelo Santa Paola. Ma prima di arrivare alla riunione, prima di arrivare alla riunione, volevo chiederle, Angelo Santa Paola in quel momento che ruolo aveva? Angelo Santa Paola aveva il ruolo di reggente dell'organizzazione. Era, il fatto che si chiamava Santa Paola era, come dire, un caso o c'era un rapporto di parentela con Enzo Santa Paola? No, c'è un rapporto di parentela, anche se qualcuno dice che è un rapporto di parentela alla lontana, però devo precisare che va Santa Paola e al di là del fatto, indipendentemente dalla persona di Angelo Santa Paola, come poteva essere di carattere o meno, la famiglia di Santa Paola teniva conto del cognome. Allora, appunto che per Angelo Santa Paola in passato sono stati commessi altri omicidi di cui già ve ne ho parlato. Per Angelo Santa Paola nel senso di discussioni ha avuto Angelo Santa Paola con altri e la famiglia Santa Paola ha fatto pagare il fatto, non per Angelo Santa Paola, ma perché Angelo si chiamasse Santa Paola. Non so se sono stato chiaro. È stato chiaro. Quello che volevo capire è, Enzo Santa Paola rispetto ad Angelo Santa Paola era un parigrado in quel momento? No, no. Enzo Santa Paola rispetto ad Angelo Santa Paola. Angelo Santa Paola era un reggendo operativo, come sono stati tutti gli altri, sia in passato che quelli che sono venuti dopo di Angelo. Ma il capo assoluto era Enzo Santa Paola, figlio di Benedetto. Solamente che vi era la problematica che Angelo Santa Paola, siccome era, come posso dire, un chiacchierone, e quindi Enzo Santa Paola aveva timore per questione, per non essere attinto da azione giudiziaria sulle chiacchiere di Angelo Santa Paola e quindi aveva timore ad incontrarsi con Angelo Santa Paola. E quindi usò quell'espediente, ci mise a fianco Natale Filoromo, che sarebbe un cugino... Lo ripete il cognome che non si è sentito? Natale Filoromo. Sì. Poi? Che è sempre un parente della famiglia Santa Paola. Gli mise a fianco Natale Filoromo affinché Natale Filoromo gli riferisse tutto ciò che Angelo Santa Paola dicesse o facesse. Poi dopo Natale Filoromo Enzo Santa Paola ebbe quella, tra virgolette, felice idea di dominare anche a Enzo Ello imponendogli un certo senso di scendere dalla Toscana e rientrare a Catania, cosa che Enzo Ello ha dovuto fare perché è anche lui un ritornamento assoliato e non può dire di no ad un ordine di Enzo Santa Paola. Ma che Enzo Ello fosse stato richiamato dalla Toscana in Sicilia da Enzo Santa Paola, lei come l'ha saputo? Chi gliel'ha detto, voglio dire? Io l'ho saputo sempre da... sia da Enzo Ello, l'ho saputo da Enzo Santa Paola stesso. Io l'ho saputo là, nell'immediatezza, anche perché successivamente all'incontro con Enzo Santa Paola, poi io mi vedevo con Enzo Ello. Quello che vorrei sapere è cosa Enzo Santa Paola aveva chiesto a Enzo Ello di fare con riferimento ad Angelo Santa Paola in quel momento? Sì, Enzo Santa Paola aveva chiesto a Enzo Ello di affiancare Angelo Santa Paola affinché potesse ricostituire la bacinella e poter far rientrare Angelo Santa Paola nelle regole, cercare un pochettino di... e far riconfluire nuovamente le imprese, il provento dell'estorsione alle imprese, nuovamente nella bacinella. Ma Enzo Ello non ebbe, diciamo, perché Angelo Santa Paola non aveva, come posso dire, insomma non aveva tanto, Enzo Ello non aveva tanta influenza su Angelo Santa Paola. Appunto che, per come mi raccontava Enzo Ello, se c'erano più discussioni, anche discussioni molto accese. Lei ha detto ci furono discussioni accese fra Enzo Ello e Angelo Santa Paola, in questo momento riesce a ricordare la ragione di queste discussioni, le vennero dette? Ma le discussioni vennero parecchie in quel periodo, perché Angelo Santa Paola non voleva consegnare nemmeno una lira delle imprese dell'estorsione, dell'estorsione delle imprese, delle imprese in edilizia, appunto che Enzo Santa Paola doveva mandare di volta in volta a richiedere, mi servono i 5.000 euro, 10.000 euro, e questo non andava bene per la famiglia Santa Paola, che doveva essere l'imperso che Angelo Santa Paola doveva invece di sue iniziative a portarli. E comunque sia, non riusciva e fecero parecchie discussioni accese e per dirne una, una, per citarne una, fecero discussioni... Sì, inizialmente, inizialmente, quando, prima che io venisse scarcerato, perché Enzo Ello, non è che Enzo Santa Paola lo fece scegli intimo di scendere dalla Toscana quando io fui scarcerato. Quando io fui scarcerato già dormai ad Enzo Ello che si accompagnava con Angelo Santa Paola per cercare di farlo rientrare ad Angelo Santa Paola nelle regole, ma questo Enzo Ello non riuscì nell'intento di Enzo Santa Paola perché non aveva tutta quella influenza su Enzo Ello, su Angelo Santa Paola. Appunto che Angelo Santa Paola si imbestialiva nella sua forma Mendes, si imbestialiva perché? Perché dice, dice, io ho fatto una guerra qua con i mazzei, dice, nessuno di loro si era fatto vivo, erano tutti rindanati in casa, ora dice che ho ucciso persone, ho ucciso cose e sono riuscito a far rindanare, dice i mazzei stanno uscendo fuori dalle loro case e vogliono pure i soldi, riferito alla famiglia Santa Paola e quindi non accettava la posizione di Enzo Ello che lo affiancava all'impresa e riconturre i proventi dell'estorsione nella bacinella. Però, piano piano, piano piano, ecco, stavo arrivato al punto di dire uno dei screzi che ebbero Angelo Santa Paola con Enzo Ello, ricordante, ne posso citare una, riguardante Turiconti. Turiconti è un imprenditore, è un imprenditore, credo, a meno di quello che mi raccontava Enzo Ello, credo che sia nel calcestruzzo, comunque è un imprenditore sempre edile, nell'edilizia, è sottoposto a distorsione, che da una percentuale la dava ad Angelo Santa Paola, prima di Angelo Santa Paola Pippe Colano, comunque sia, Turiconti è anche amico di Enzo Ello e Angelo Santa Paola portò appunto a questo imprenditore di far deridere Enzo Ello, nel senso, dice, senti, dice, finiscila, insomma, facciamo delle bottute riguardo di Enzo Ello, dice, finiscila, perché sta spattando solo un'assetta, dice, non fai altro durante il giorno di, anziché guadagnare, di metterci di sacchetta di tasca per la nazista, e quindi fu ritenuta anche un'offesa da parte di Enzo Ello, che un imprenditore, Turiconti, deride, Angelo Santa Paola, permette a un imprenditore di far deridere Enzo Ello, e quindi fu ritenuta anche questa un'offesa, questa, questa è per portarle una delle tante, come poi mi disse Enzo Ello che ne ebbero un'accesa forte, non entrò nei termini, ma mi disse, non entrò nei termini dell'accesa discussione, perché Enzo Ello si imbarazzava anche a raccontarmi le espressioni a volte volgari che poteva avere Angelo Santa Paola, mi disse solo che gli rispose, dice, che tu a me, dici, queste cose non me le puoi dire, il senso era perché Enzo Ello era di domenica affiliato e ancora Angelo Santa Paola non lo era, però Angelo Santa Paola si faceva forte del cognome che portava e quindi si permetteva di maltattarlo in riferimento a Enzo Ello. Lei ebbe maggiore fortuna nel controllare Angelo Santa Paola? No, no, assolutamente, questo fu portò Enzo Santa Paola a intimarmi di farmi quella forzatura di scendere a Catania nuovamente a diventare operativo dopo avermi dato la sua parola che poteva andare a lavorare. Sì, però la domanda era non se Enzo Ello fosse riuscito, ma se lei riuscì a, per qualche tempo o sempre, insomma, ad avere la fiducia di Angelo Santa Paola in qualche modo a controllarlo meglio di altre? Dottoressa, fecimo tanti tentativi d'accordo con Enzo Ello e con le direttive di Enzo Santa Paola, cioè i tentativi prima provammo a suddividere i compiti, cioè Angelo Santa Paola doveva restare reggente a Catania e si doveva spiegare tutte le problemate con gli altri gruppi avversi, mentre invece Enzo Ello si doveva spiegare tutti i paesi, i paesi che facevano provincia di Catania, spiegare tutti i paesi significava cercare di prendere quanto più imprese possibili e ricostituire nuovamente quella bacinella, al che Angelo Santa Paola in un primo momento diciamo gli ha consentito senza parlare, successivamente, in tempi successivi, se ne uscì con una frase dicendo, dice a me non mi sta bene questa situazione perché dice i soldi sono nei paesi e non sono a Catania e fu motivo di un altro screzio fra Angelo Santa Paola e Enzo Santa Paola, la terza volta anche con Enzo Ello e anche noi e quindi si pensò di tentare un'altra volta, ma si pensò e stiamo parlando, stiamo parlando perché abbiamo saltato un passaggio dottoressa, noi stiamo parlando dei tentativi in attesa dell'incarico che mi era stato dato per uccidere Angelo Santa Paola, perché l'incarico che mi fu dato per uccidere Angelo Santa Paola mi fu dato nel momento in cui mi cambiai il domicilio da Tremestieri a Catania dopo un po', perché credo che dopo una decina di giorni, 15 centri di giorni, ora i tempi non me li ricordo bene, però dal primo appuntamento che io mi eviti con Enzo Santa Paola a casa di mio padre, dopo ci fu un successivo appuntamento in un meccanico alla zona industriale dove non vi era presente Enza Ello, perché in quell'appuntamento mi fu comunicato la decisione di uccidere Angelo Santa Paola e a sua volta dopo l'uccisione di Angelo Santa Paola doveva morire pure Enza Ello, perché fu una condizione posta da altri a Enzo Santa Paola, ma non si fermarono qua perché vi fu, da una di quelle persone presenti quando mi fu comunicato l'omicidio di Angelo Santa Paola, vi fu, diciamo così dire, la mette in battuta, mi scusi, la voce fuori cuore che disse, ma una volta dice Camorra dice, magari Enza Ello, suo frate di Affio, dice diventa una spinandociango, e vi fu una persona che disse, se a caso se ne va pure lui, però, nel senso che doveva morire pure Affio Ello. Aspetti, mi ascolti, signor La Causa, dobbiamo tornare un momento indietro, mi deve dire a questa riunione chi l'ha invitata innanzitutto, chi l'ha chiamata in questa riunione? Questa riunione fu indotta da Enzo Santa Paola, figlio di Benedetto, e vi era presente Pippe Colano e un'altra persona. Mi dica i nomi di tutte le persone presenti. Bene, i nomi di tutte le persone presenti ero io, Enzo Santa Paola, Pippe Colano e Antonio Motta. Come andò questa riunione? Quando lei arrivò, chi c'era presente? Quando io arrivai, trovai Enzo Santa Paola e Pippe Colano, dopo arrivai io, per ultimo arrivò Antonio Motta. Come andò la riunione? Lei si ricorda quali furono le prime battute di questa riunione? Dottoressa, la riunione, Enzo Santa Paola, praticamente come dissi nei precedenti verbali, non aveva bisogno di autorizzazioni per poter decidere un omicidio ricordando un affiliato, né tanto meno quelle di Angelo Santa Paola, perché Enzo Santa Paola sapeva che in passato già suo padre e Aldo Eccolano avevano deciso l'incisione di Angelo Santa Paola, almeno per come mi raccontano, questo mi fu detto da Salvatore Battaglia. Dice, avevano deciso e avevano incaricato, ma nessuno, nessuno aveva mai eseguito quest'ordine perché era un Santa Paola, al di là della persona di Angelo, era un Santa Paola, c'era il cognome, nessuno si adoperava per eseguire quest'ordine, perché pensavano e capivano e sapevano che una volta ucciso un Santa Paola non potevano lasciare in vita chi avrebbe toccato, diciamo, un Santa Paola, un nome che si sarebbe macchiato di questa cosa e quindi nessuno eseguiva una cosa del genere. Però, ora voglio dire, ritornando al punto di partenza, Enzo Santa Paola, figlio di Benedetto, se la poteva prendere questa responsabilità perché era lui il capo assoluto, io non dovevo rendere conto a nessuno, però trattandosi di un Santa Paola, preferì che i suoi parenti gli tessero delle risposte, cioè lui praticamente voleva necessariamente anche il parere di Aldecolano, il parere di Aldecolano che arrivò tramite il padre Pippe Colano. A sua volta Pippe Colano però pose una condizione, pose la condizione che se ne doveva andare anche in Saiello. Uno per un motivo, Pippe Colano per il motivo che dice che era a fonte della sua disgrazia in passato con Nitto Santa Paola, perché Pippe Colano fu accusato, diciamo, che si era mangiato i soldi della bacinella, si era zambato usando il termine loro malavitoso e quindi Nitto Santa Paola all'epoca, anziché ucciderlo come di solito faceva con altri affiliati che si erano macchiati di queste cose, lo risparmiò solamente perché era il padre di Aldecolano e quindi fu cosiddetto posato che non doveva più attivarsi nell'organizzazione. Ma stiamo parlando tempi che furono, a me mi raccontano tempi che furono, che poi era una posatura diciamo per così dire, non so come, una posatura per finta perché era come Prezzemolo, in tutte le discussioni c'era sempre Pippe Colano. Comunque sia, Pippe Colano pose questa condizione a Enzo Santa Paola per questa ragione. Antonio Motta pose la condizione che Enza Ello, perché non si fidava di Enza Ello, perché vi fu, quando fu arrestato per la detenzione dell'arma, di un'arma, parlo 1996-98, ora adesso non ricordo bene il periodo che sono passato di transito del carcere di Bicocca e non ricordo se Enza Ello fu trasferito quella mattina stessa che io arrivai o l'indomani mattina. Comunque sia, come Enza Ello fu trasferito, perché Enza Ello era in Celle, era ubicato in Cella con Antonio Motta a Bicocca. Quando Enza Ello fu trasferito, dopo qualche giorno, al ritorno Antonio Motta da un colloquio con l'Avvocato, venne dicendo, io mi trovavo in quel momento stavo passeggiando con Enzo Santa Paola, le scendisco bene perché voglio che Enza Ello sappia ciò che non sa. E quindi, a ritorno dell'Avvocato, Antonio Motta, portò la notizia a Enzo Santa Paola, dicendo, fosse che si vendevo, fosse per lui, l'ha portato come una certezza. Dice, ora vediamo un pochettino, in questi giorni saprò di più. Comunque sia, Antonio Motta ebbe quell'esternazione di dire, dice, io non mi hai frato mai, dice, Rienza Ello, malgrado, dice, è una persona, diciamo, però non mi hai frato mai perché lo vedo debole. Dice, l'ha visto sempre debole. Questa è stata l'espressione di Antonio Motta. Ritornando all'incontro dove si decisero l'omicidio di Angelo Santa Paola, questa era una, la motivazione di Antonio Motta che si abbinò, si rafforzò quella di Pippe Colano. Come ho detto nei precedenti verbali, inizialmente Enza Ello saprà qualcosa perché questa non si sa, inizialmente non fu tanto, non fu, come posso dire, da parte di Enzo Santa Paola, e devo essere del tutto onesto, non fu subito che disse sì, perché prima fece un'espressione, e questa forse non ve l'ho detto nemmeno nei verbali dell'interrogatorio, prima fece un'espressione dicendo che, un pochettino che ce l'avevo con Enza Ello, e questa è una cosa che saprà Enza Ello, Enza Ello, durante la detenzione di Enzo Santa Paola, a nonna Azzasina, Azzasina sarebbe la zia di Enzo Santa Paola, e gli chiese 50 mila euro da arrestargli, e Enzo Santa Paola l'aveva con Enza Ello, perché dice, se io ho appicato, se io ho dicendo di mezzia, se io farerai nei mesodi, 50 mila euro, ci vorrei usare, dice. Allora, signor Lacazzo, vuole ripetere il nome della zia di Enza Santa Paola, alla quale si è rivolta Enza Ello per avere dei soldi? Zia Sina, almeno la chiamavano Zia Sina, non so, la chiamavano Zia Sina, Zina. So che è deceduta pure questa, che è la sorella della madre di Enza Santa Paola. Zia Sina, Zia Sina, va bene, ho capito. Sì. Andiamo avanti, quindi diceva lei, Enza Ello in un primo momento ebbe questa espressione, continui da qui il racconto, Enzo Santa Paola ovviamente. No, Enzo Santa Paola ebbe questa espressione, nel senso, sì. Poi ha consentito affinché Enza Ello, ma io l'ho visto, non era un consenso per uccidere Enza Ello, un consenso forte, diciamo, l'ho visto titubbante e questa cosa, le registrae questa cosa, ma non disse di no. E quindi la, come posso dire, la riunione si ciolse con queste direttive di uccidere Angelo Santa Paola e successivamente Enza Ello, cosa che io non ho mai, diciamo, eseguito quest'ordine perché ne approfittai del fatto che Enzo Santa Paola, durante, prima che venisse arrestato dell'udienza e del procedimento Plutone, diciamo, rientrò, come posso dire, ebbe nuovamente buoni rapporti con Enza Ello. Insomma, sfruttai questa cosa, nel senso, quella titubbante di Enzo Santa Paola su Enza Ello, la sfruttai, per non parlarne più di questo discorso, una volta arrestato Enza Ello, fu prestato, fu prestato da Pippe Colano, perché poi successivamente, era stato arrestato, non mi ricordo adesso se fu prima dell'omicidio Santa Paola o dopo l'omicidio Santa Paola, fu arrestato anche Antonio Motta per un residuo di pena. Quindi, Antonio Motta era colui che aveva molta influenza su Enzo Santa Paola, cosa che lo portò a Enzo Santa Paola a non dire di no su Enza Ello. Però, non disse di no, ma io capitai quella titubbanza che, comunque, su questa, l'influenza, una volta arrestato Antonio Motta, Enzo Santa Paola non ebbe più l'influenza di Antonio Motta, perché era l'unico, diciamo, Antonio Motta che poteva, come posso dire, perché ha un'influenza molto forte su Enzo Santa Paola, capace, è capace di, come posso dire, in un certo senso di manovrarcelo come vuole, ma in un modo pulito, lo fai in un modo pulito raffinato. Comunque sia, una volta arrestato Antonio Motta, Enzo Santa Paola non me ne parlò più. Io approfittai del fatto perché, ripeto, come ho detto anche in precedente dichiarazione, Enzo Ello, mi era molto simpatico e mi è rimasto lo stesso anche adesso simpatico, io non ne parlai più e prosegui la cosa. Prosegui come se niente fosse nell'andamento dell'associazione, per cercare un pochettino di rimettere in gesto quelli sottorizzi. Va bene, però torniamo alla riunione. Lei esce da quella riunione con un ordine, uccidere Angelo Santa Paola. Come si organizza? Sì, una volta ricevuto quest'ordine, inizialmente, perché Enzo Santa Paola mi aveva detto, inizialmente, di stare vicino sia a Enzo Ello e sia in particolare a Angelo Santa Paola come osservatore e cercare di guidarlo, di guidarlo a farlo rientrare nelle regole, nelle regole dell'associazione. Si provò, come stavo dicendo, in tutti i modi, si arrivò al punto di farlo ritualmente affiliato, di affiliarlo ritualmente ad Angelo Santa Paola, affinché, perché loro usano quel termine, mettiamo il ciu testale, vediamo se lo possiamo governare. Il testale è quello che si mette ai cavalli, no? E usano questo termine quando danno questa forma, tra virgolette, di regalo, che sarebbe l'affiliazione formale di un soldato. E quindi dice, vediamo se riusciamo a farlo rientrare, non si riuscì in questo. Poi la cosa peggiorò perché Angelo Santa Paola ebbe rapporti con Nilo Piccolo e quindi non si poteva tenere più e che era come se camminava, non lo so dove camminava, comunque non riuscì più a controllare, a controllarsi e non riuscivamo più a controllarlo. Nonostante ciò, nonostante ciò, ebbe, in modo perché mi fu intimato ancora una volta di Enzo Santa Paola, di uccidere Angelo Santa Paola. Ma questa cosa, questa cosa che uscì fuori da Gangheri Enzo Santa Paola, dopo aver dato l'ordine, fu un periodo di calma che io, un un di calma, diciamo tra virgolette, come stavo dicendo poc'anzi, che si dovevano capire che impresa aveva Angelo Santa Paola nelle mani, perché più era la questione anche di Scinardo, è un imprenditore che si gestiva Angelo Santa Paola con altri e quindi incomincio pure questa diatriba tra Angelo Santa Paola e Enzo Aiello, perché Enzo Aiello scoperse che Angelo Santa Paola, usando il termine malavidoso, si era zampato a 90 mila euro, credo 70-90 mila euro, non mi ricordo. E quindi Angelo Santa Paola venne a sapere che Enzo Aiello aveva scoperto questa cosa, Angelo Santa Paola diceva che non era vero, che era una tragedia, insomma c'erano tutti questi tipi di cose, poi avvenne l'omicidio di Lucia Aurora e erroneamente Angelo Santa Paola lo debitava a quella parte, diciamo, affiancato a lui, quella parte diciamo io, Enzo Aiello e Camelo Pugliesi. Lo debitava a noi al punto tale che in un incontro che si fece con Ilo Piccolo, Ilo Piccolo di Palermo, fece sapere che aveva questa problematica nelle mani, che era stato ucciso un uomo d'onore e che sapeva, sospettava, aveva, secondo come portò lui la discussione a Ilo Piccolo, aveva delle fondatezze che eravamo, gli autori eravamo noi, noi sarebbe, ripeto, sempre io, Enzo Aiello e Camelo Pugliesi. E gli portò pure Angelo Santa Paola dalle notizie, almeno io ne deduco dalle notizie che mi arrivarono successivamente, perché a Palermo non ci sono stato. Gli disse Angelo Santa Paola Ilo Piccolo gli dice c'è la mano anche di qualche parente, cioè l'ordine di qualche parente di uccidere mi dice a Nuccio Aurora che avevo molto vicino e che volevo bene perché Nuccio Aurora era suo figlioccio perché fu ritormentato. La causa mi dice il nome della persona che è stata uccisa? Nuccio Aurora. Continui allora. Sì. E allora Angelo Santa Paola a Ilo Piccolo disse che aveva fondati i sospetti che dietro l'uccisione di Nuccio Aurora, cioè gli autori di Nuccio Aurora eravamo stati noi e che dietro di noi vi fosse l'ordine di un parente. Al diritto magari che si tratta di qualche parente. Cioè il significato, il significato di, la frase di Ilo Piccolo, forse perché l'ho detta in dialetto. Sì la ripete in dialetto che è più immediata, però più lentamente. Va bene. La frase di Ilo Piccolo ha detto, dice, su questa problematica, su questo fatto che qualcuno si era macchiato dell'uccisione di un uomo d'onore, che non si può uccidere un uomo d'onore senza che si discuta in famiglia, quindi dici, se sono stati loro gli autori e se dietro di loro vi sia anche un familiare, cioè un Santa Paola o un Pippe Colano, dici, tiro ritto magari che c'è un parente, cioè prosegui anche nell'uccisione di un parente. A secolo di questo, questa notizia ci arrivò attraverso Giorgio Canizzaro, perché Anzio Santa Paola si confidò con Giorgio Canizzaro. Giorgio Canizzaro fece arrivare questa notizia. A sua volta Enzo Santa Paola arrivò a quella frase e dice, o tu o i tu. Cioè, o io o Angelo. O io significa o tu o lui. O la causa o Angelo Santa Paola. Siccome lui ha visto che perdevo troppo tempo, praticamente il discorso, io ho fatto dei finti, quando mi dettero l'ordine di uccidere Santa Paola e Angelo Santa Paola, io sapevo che vi erano dei provvedimenti che dovevano eseguire nei riguardi di Angelo Santa Paola. Io non volevo fare questo omicidio e cercai di portarlo alle lunghe con il gruppo che avevo io a fianco, cioè quello di Carmelo Puglisi, Orazio Magri e altre persone, e in questa situazione Enzo non compariva, nella situazione dei finti agguati, cercai con dei finti agguati di prendere tempo affinché eseguissero quei provvedimenti e si evitasse l'uccisione di Angelo Santa Paola. A seguito, a seguito di queste discussioni e di questo tempo che io prendevo, si interporse questa situazione di Nuccia Aurora. Ora, una volta che il lo piccolo gli dice ad Angelo Santa Paola, prosegui e punisci coloro che si sono macchiati dell'uccisione di Nuccia Aurora e punisci anche se vi è un familiare, arrivata questa notizia, è venuto a sapere Enzo Santa Paola, dice, o tu o iddo, come per dire, ha perduto troppo tempo, o tu o iddo, si è appaccolato adesso, voglio dire, ho dovuto abbassare il capo e quindi proseguire sempre in quei tentativi che io facevo ma non attuavo. Però, in questo francente vi furono... Aspetti, aspetti, prima di andare avanti. Io vorrei però che lei si sforzasse di seguire, come dire, gli eventi nel loro svolgimento temporale. Quando lei esce della riunione, dove ha avuto questo incarico, lei esce della riunione a questo compito, doveva farlo da solo, questo omicidio, o gli occorreva l'aiuto di qualcuno? No, mi occorreva l'aiuto degli altri. A chi si rivolse innanzitutto? Mi rivolse a Salvatore Battaglia, in cui lo misi a corrente. Salvatore Battaglia, prima che gli arrivasse una sentenza definitiva, camminava con me quel periodo, perché fu in quel periodo anche ridolmente assiliato, di cui mi indicò come suo padrino, quindi ero il padrino di Salvatore Battaglia. Quindi mi si a corrente Salvatore Battaglia, di questa situazione. Salvatore Battaglia è colui che mi disse, dici no, non fare. Di fatto è l'espressione mia, che non posso mai dimenticare, semmai non facciamo, no, non fare. Cioè perché mi spiegò i motivi perché in passato tanti dell'organizzazione Santa Paola si rifiutarono ad eseguire l'ordine di uccidere Angelo Santa Paola, per altre situazioni, perché Angelo Santa Paola è sempre stato una testa calda, una testa pazza, ma non solo durante la libertà, ma anche nella detenzione. Appunto che, insomma, prendeva schiaffi anche da Alde Colano, una volta i palermitani alla Sinara lo lasciarono, lo pestarono di brutto e lo lasciarono a terra quasi morto, più morto che vivo. Comunque tutto un insieme di cose. Quindi, Sabato Rebattaglia, mi disse, no, non lo fare, spiegandomi le motivazioni. E qual era la motivazione? Cosa? Qual era la motivazione? Cosa le disse? La motivazione fu per il fatto che in passato, dici, tanti si erano rifiutati di farlo, ma non rifiutati apertamente, rifiutati senza dire, no, no, faccio. E, insomma, ecco dove mi portò più avanti al punto di fare quelle finte, diciamo, finte preparativi per uccidere Angelo Santa Paola. Perché se gli altri non l'hanno fatto, perché l'avessi a fare io, perché avessi a morire io dopo Angelo Santa Paola, se io tocco un Santa Paola. E quindi disse, ci sono questi provvedimenti che sono in corso che dovrebbero avvenire, perché avevamo avuto una soffiata da parte di un appartamento alla forza dell'ordine, che ci dovevano essere degli arresti riguardanti Angelo Santa Paola, che poi effettivamente vi furono, e fu l'operazione Arcangelo. Arcangelo. E quindi lei voleva perdere tempo in pratica? Cosa? Lei voleva perdere tempo in vista di questi arresti? Certamente. Ma poteva, come dire, ignorare l'ordine? Fece qualcosa? No, non potevo ignorare l'ordine. Di fatti cercai, come stavo dicendo Pocanzi, fece una preparazione con Puglisi, Orazio Magrì, con l'appoggio del gruppo del villaggio Sant'Agata, con Benedetto Cocimano. Fece una preparazione quando Angelo Santa Paola andava a timbrare per la sovveglianza commissariato di Librino. La preparazione significa che direttamente andai con gli altri per, diciamo, uccidere Angelo Santa Paola. E lo vide Angelo Santa Paola? Cosa? E in quell'occasione, quando si appostò per cercare di uccidere insieme agli altri Angelo Santa Paola, effettivamente lo incontraste, lo vide lei? Gli altri non lo videro, io sì, però feci finta di non vederlo. Ma se l'avessero visto, credo che la cosa sarebbe andata brutta. Ma no, ne approfittate il fatto che non lo videro. Quindi lei parla con Battaglia prima, Battaglia le dice di stare attento e di evitare. A quel punto lei non parla più con Battaglia? No, Battaglia poi successivamente mi fece sapere la decisione di suo fratello. E chi è suo fratello? Di suo fratello santo. Santo Battaglia. Perché mi risse, successivamente ci siamo visti, mi risse e dice, vedi che io gliel'ho fatto sapere a mio fratello e mio fratello mi ha detto, su sa fare, sa fare. Se c'è questo odio, sa fare. Solo che a sabato della Battaglia, Battaglia, vista la cosa che ormai le cose sono, come posso dire, la dico in dialetto, sono singenno, ne approfittò che c'era una sentenza definitiva, lui aspettava una sentenza di castrazione definitiva, dice meglio mi vada a consegnare, così mi tolgo da tutte queste cose, dice. Perché lui, io lo vedi, non dico terrorizzato, ma aveva un forte timore, perché lui mi diceva, su Tocchiai Angelo, non è più Angelo, dici, e non voglio ripetere il termine che disse come persona, dici, ma è un nome capotta, dici, e nessuno, dici, in passato, dici, l'ha voluto fare, dici, perché l'ha visto ma farano altri? Insomma, ne approfittò, ci trovò una sentenza definitiva, dici, e... E quindi disse di no? E si fece arrestare, diciamo, in un certo senso. Ma una volta arrestato Salvatore Battaglia, lei su chi pensò di appoggiarsi? Con Carmelo Puglisi. Carmelo Puglisi era d'accordo a commettere questo omicidio? Carmelo Puglisi stava a quello che gli dicevo, perché Carmelo Puglisi, nel frangente che io parlai con Salvatore Battaglia, Carmelo Puglisi era stato arrestato per una tentata estorsione, si assendò per all'ingicchia un mese, ora non mi ricordo bene. Quando fu scarcerato Carmelo Puglisi, Salvatore Battaglia, già era stato arrestato, c'era arrivata la sentenza definitiva di Cassazione, quindi non si incontrarono Carmelo Puglisi con Turi Battaglia, quindi mi avvicinai a Carmelo Puglisi perché era un fedelissimo mio, Carmelo Puglisi, e spiegai tutta la situazione a Carmelo. E Carmelo Puglisi le diede il suo appoggio? Qui, a questo punto, vuole dire alla Corte i tentativi che vennero fatti concretamente? Oltre a quello che ha riferito, cioè di attenderlo presso il luogo in cui andava a firmare? Nel tentativo l'ho fatto andare perché l'avevo visto solo io, quindi si pensò che... o che avevo stato... comunque si fu lasciato andare perché la situazione... perché si pensò poi, sempre nei vari preparativi, di fare scendere qualcuno al diaverbiscito, cioè, ricapitolando e far capire meglio la situazione, quel film preparativo che si fece a Librino fu dove? Angelo Santa Paola, come ho detto, andava a timbrare perché era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di firma. Ci preparammo, che ero in compagnia di Puglisi, Carmelo, Orazio Magri, Benedetto Cocimano con l'appoggio di qualcuno del gruppo del villaggio Sant'Agata, Angelo Santa Paola venne a timbrare al commissario di Librino. Non fu visto da nessuno di quelli che erano appostati. Lo vedi, nella posizione in cui ero e nella posizione in cui mi ero messo io e Benedetto Cocimano che eravamo posteggiati in una persona, lo vedi solo io, perché loro lo persero di vista nel senso che non ho perché lo aspettavano ad Angelo Santa Paola che venisse colti Max, mentre invece quel giorno Angelo Santa Paola venne con una macchina a timbrare, cioè aveva una panda, venne con una panda, quindi lo intravidi solo io perché loro lo aspettavano colti Max e non dissi niente, non non dissi che c'era Angelo e poi potevamo a mettere in atto quel proposito di ucciderlo. Poi vi furono diverse pensate assieme, qua però subentra in tempo successivo, subentra in tempo successivo entra in questo discorso Enzaiello perché in un primo momento quando mi comunicarono l'omicidio di Angelo Santa Paola Enzaiello doveva essere ucciso ma Enzaiello non doveva nemmeno sapere niente di questa situazione. Enzaiello entra successivamente quando dopo studentativo dopo tutti quei discorsi che vi erano con Enzo Santa Paola che Enzaiello andava a rapportare a Enzo Santa Paola perché si vedevano perché è bene da precisare che parecchi incontri Enzo Enzaiello se li faceva da solo con Enzo Santa Paola come io me li facevo da solo con Enzo Santa Paola separatamente parecchi incontri qualcuno in compagnia anche di di Aiello quindi in uno di questi incontri Enzaiello mi disse ci disse perché ho capito che gliel'aveva detto Enzo Santa Paola ci suddurisse dice sì cioè mise a corrente Enzo Santa Paola di Enzaiello di a Enzaiello di uccidere Enzo Santa Paola su questa cosa da un lato mi rassicurò perché perché diede forza ai miei pensieri quando dissi titubante a Enzo Santa Paola nel comunicarmi la notizia nel senso quando quando Enzo Santa Paola fu titubante nella decisione di uccidere Enzo Aiello me la rafforzò nel momento in cui Enzo Santa Paola Enzoiello mi dice ma fai che sapere allora se fai che sapere non c'è più intenzione di uccidere Enzoiello e si è ritornato sui suoi passi questa cosa poi si discusse con Enzoiello successivamente e che parlavamo attraverso un se era il caso di fare scendere o Fiammetta affonso Fiammetta però pensavamo infine per Biscito di fargli andare solo uno camuffalo così di bella diciamo così pulito pulito però erano tutti pensieri perché Fiammetta scendeva era come posso dire gli piacevano i cavalli frequentava l'estate di San Cristofo quindi era conosciuto poi si pensò parlando anche con Franco il parente di Genoa di Assinata Amantea Franco Amantea di fare scendere un suo cugino infie per Biscito che questo suo cugino che mi disse un cugino alla lontana è un appartenente del gruppo di Bronde di Sabotone Catania quindi queste erano tutte le pensate che non si attuarono mai però la cosa che a me mi giocava per prendere tempo che nessuno siccome stavano sia Enzoiello Puglisi tutte queste persone stavano a ciò che gli dicevano nella nella programmazione perché perché il fatto stesso che Enzo Santa Paola mi comunicò a me e io fecchi sapere poi a Puglisi l'ordine di uccidere Santa Paola era come se la decisione la decisione di organizzare e fare e dire aspettasse a me e quindi stavano tutti su ciò che dicevo perché questo fatto mi giocò a mio favore nel momento in cui nessuno si chiedeva ma come mai per dire se noi abbiamo una base sicura che Enzo Santa Paola viene qua a timbrare tre volte alla settimana quattro volte non so quante volte timbrava la settimana perché perché non possiamo ripetere se non l'abbiamo vista adesso sicuramente lo vedremo la prossima volta che viene attenzione nessuno si chiedeva una cosa del genere e quindi questo giocava a mio favore e io cambiavo continuamente facciamo proviamo con questo proviamo con quella perché voglio dire se si voleva se c'è se vi era veramente l'intenzione io lo potevo lo potevo prendere da qualsiasi parte anche quando uscivo sotto casa di via Cuicella vicino a piazza Paestola là era un luogo favorevole e meglio della diciamo della questura di Librino nessuno si chiedeva questo nessuno si chiedeva questo e questo mi rafforzava a me quella cosa di prendere tempo solo che poi subentrano altri fattori cioè il discorso dei palermitani nello specifico il lo piccolo si aspetti subentrò come dicevo aspetti un momento prima di andare a Palermitani a cui ha già fatto scenno volevo chiederle sempre in questa fase organizzativa ora che ormai entra in gioco o in questa fase organizzativa avete avuto l'idea ha avuto l'idea di rivolgersi anche a soggetti di gruppi esterni a Catania esterni a Catania della provincia non esterne alla famiglia Santa Paola ovviamente professore avevamo coinvolto i gruppi di Paternò e Bronde nella cosa di San Patore Catania e San Camander e con i paesi di Bronde e di Paternò andò con i soggetti dei paesi di Bronde e di Paternò parlò lei da solo o con qualcun altro no eravamo sempre quando parlavamo con questi soggetti eravamo sempre nelle discussioni eravamo sempre io e Enzaiello e Camelo Puglisi prese contatti con Ilo Piccolo a sua volta di Salì e cioè andò a Palermo in compagnia di Angelo Santa Paola anche Enzaiello dove si incontrò con Ilo Piccolo addirittura Enzaiello cercò in tutti i modi di dire a San Patore e a Palermo e a Palermo e a Palermo guarda che Angelo Santa Paola ancora ragiona malavitoso cercò di fargli capire che non era la persona indicata di tutta questa situazione a Palermo e a Palermo e a Palermo e a Palermo gli rispose e dice io e da tanto dice che sto cercando di prendere contatti con Enzo Santa Paola figlio di Benedetto si dico però siccome ascolti siccome Ilo Piccolo era un capo mafia Ilo Piccolo Ilo Piccolo in quel momento aveva il ruolo di capo a Palermo e stava riorganizzando stava cercando di riorganizzare tutta la Sicilia e di cui si avvalse anche della collaborazione di Enzaiello che gli dette un bigliettino per il latinante di Agrigento il capo di Agrigento gli detto un bigliettino da fargli recapitare di questo era sabato l'O Piccolo all'epoca però cerchi di seguire le domande per cui dicevo l'O Piccolo era capo di che cosa? lo dica espressamente era capo di Cosa Nostra bene allora posso l'O Piccolo era una persona che non non si può dire che fosse proprio per bene dire che Angelo Santa Paola era un malavitoso che significava? non sembrerebbe così una cosa negativa giusto? in un ambiente malavitoso sì è la distinzione per fargli capire all'O Piccolo che ancora non ragiona con le regole di Cosa Nostra ma ragiona con la mentalità di malavitoso da strada questo era il senso che cercava di spiegare di far capire Enzo Ello all'O Piccolo ho capito al che l'O Piccolo si trincerava dietro quel fatto perché dice io ho cercato di prendere contatti con Enzo Santa Paola mi è arrivato invece Angelo Santa Paola che era della stessa famiglia a che Enza Ello gli spiegò a San Vodoro all'O Piccolo che cercava di proteggere Enzo Santa Paola da azioni giudiziarie e quindi dice ci siamo noi dice lui è dietro di noi dice Enzo Santa Paola e l'O Piccolo gli disse in risposta a questa cosa che non l'aggradì la risposta di Enza Ello gli rispose dice guarda che assi anche a me c'è mio figlio Sandro che è all'aggastolo e ancora qua dice noi fantasi non ne vogliamo conoscere e per dispetto per dispetto Sampadrano Piccolo disse in presenza di Enzo Ello dice io come responsabile a Catania conosco Angelo Santa Paola e colui che deve venire qua a parlare con me a Palermo è Angelo Santa Paola e solo attraverso di lui insomma fu una cosa dispettosa che volle almeno io l'ho intesa in questo senso fu un dispetto che volle creare Sampadrano Piccolo questa cosa chi gliel'ha raccontata questa cosa questo episodio questo episodio che lei ha narrato chi gliel'ho raccontato a lei Enzo Ello a ritorno da Palermo sa se venne poi anche raccontato Enzo Santa Paola certamente che venne raccontata la prima cosa fu raccontata a Enzo Santa Paola e là si addirò di chi dice che sto mi stanno mettendo contro dice Evole Metano addirittura Enzo Santa Paola mi disse dice dice è noto dice chi sta ragionando dice sempre dice una maniera nel senso almeno io l'ho intesa come per dire dice o volere o volare dice ci devo andare dice per forza a incontrarmi con Evole Metano e di fatto si stava provvedendo perché anche Enzo Ello insistette a quel punto insistette Enzo Ello con Enzo Santa Paola insistette di incontrarsi dice a meno una volta dice a incontri che vuole Metano e si cercò di organizzare questo incontro e dove è venuto incontro e stavo e stavo dicendo incontro che si organizzò dove dove si uccise poi Enzo Santa Paola successivamente che sarebbe le zone di Passo Martino in un vecchio maicello si organizzò quell'incontro e in Santa Paola venne si fece accompagnare perché di solito camminava con una persona che gli faceva da autista mi spece accompagnare perché era reduce da un incidente lui mi ha detto prima di venire dice io mi porto ora il catetere perché avevo subito un incidente in precedenza dice me lo metto posticcio no per fargli capire a chi doveva venire all'appuntamento dei palermitani cioè il massimo Troia dice mi faccio vedere che sono con il catetere mi porto anche la stambella dice così posso giustificare il fatto perché non sia mai andato da loro non abbia preso contatti perché stavo male non potevo camminare avevo caduto tutta questa situazione va solamente che l'appuntamento massimo Troia non venne la cosa dice che ci fu un'incomprensione nelle telefonate questa cosa noi pensammo che fu un ulteriore dispetto e quindi questa cosa come posso dire infervorò ancora di più Enzo Santa Paola e si infervorarono anche i discorsi che facevamo noi chi sto riferuto a Enzo Santa Paola dove ci sta portando in queste situazioni con i palermitani Angelo Santa Paola seppe di questo appuntamento andato a vuoto? Chi? Angelo Santa Paola seppe di questo appuntamento andato a vuoto con i palermitani? questo fu il punto e questo fu il punto che noi pensammo che fu un ulteriore dispetto perché Angelo Santa Paola poi venne con un sorriso a tipo di derisione quando venne da noi dice saccelo poro e dice che palermitane quindi questo pensammo allora è stato un dispetto e tu sapeva quindi palermitane anziché venire da noi se ne sono andati direttamente da lui per come aveva stabilito sapere lo piccolo che conosceva a Catania solo Angelo Santa Paola e non voleva conoscere nessun altro come leggende quindi pensammo invece di venendo noi ci hanno ignorati del tutto no? questa cosa come ho detto ha infervorato tanto Angelo Santa Paola ci ha un pochettino irritati anche me anche Enzaiello quindi Enzaiello cercò di capire il perché non fossero venute Troia credo che mi disse sempre me lo disse sempre Enzaiello che ha condotto o Troia o un tale Sedita Giancarlo Gianfranco una cosa del genere comunque Sedita mi disse che si chiamasse uno dei due e gli gli disse dici c'è stata un'incomprensione nelle nelle comunicazioni non avevamo capito che ci dovevamo incontrare dici allora lo rifaremo più avanti e si riprogrammò successivamente un altro appuntamento sempre nello stesso luogo quel giorno che doveva venire anche Angelo Santa Paola con i palermetani cioè fu mandato a prendere avevamo l'incontro con i palermetani li attendeva non so come si erano stabiliti con Enzaiello li attendeva come si chiama Antonio Bergamo li attendeva Antonio Bergamo Antonio Bergamo venne forse sto sto posticipando devo dire un attimo all'appuntamento devo dire chi erano presenti a quell'appuntamento dottoressa certo infatti la stavo per bloccare per chiederle innanzitutto l'appuntamento venne preso diceva l'epoca Anzaiello tramite Antonio Bergamo ha detto tramite Antonio Bergamo questo per la corte vuole spiegare questo Bergamo che lavoro fa dove Bergamo è dello Spero frazione di Paternò Spero e ha un gestisce mi sembra se deve aver capito una pompa di benzina un bar con una pompa di benzina una cosa del genere là lo Spero quindi tramite Bergamo fissò l'appuntamento ma lei come dire l'organizzò lei il comitato d'accoglienza per i palermitani no l'organizzò Anzaiello perché io non conoscevo nemmeno quel posto dove andare quel posto là dove era che è un vecchio macello in disuso era un posto che conosceva Anzaiello perché Anzaiello conosceva il guardiano di là e per quanto riguarda le persone presenti chi decise chi doveva essere presente no non si decise sai che cosa successe successe il fatto questi dispetti che noi dispetti che noi registrammo da parte dei palermitani a quel punto una volta che rifiutano l'appuntamento pur avendogli detto che vi era Enzo Santa Paola figlio di Benedetto Santa Paola e la portano come se c'è stata un'incomprensione a quel punto non capivamo più cosa stesse succedendo perché perché come ho detto prima vi era stato il fattore Nuccia-Aurora precedentemente quindi a quel punto non riusciamo più a capire cosa stesse succedendo e temevamo erano solo pensieri pensieri buttati così senza confondamento temevamo che potesse anche magari che ne so potessimo rischiare qualche azione dei palermitani in combutta con Angelo Santa Paola e quindi ci preparammo ci preparammo con altre persone cioè facendo scendere persone di Paternò persone di Brond ci preparammo per fare l'incontro con i palermitani riesci a ricordare chi c'era da Paternò chi c'era di Paternò di Paternò c'era Sangamandea e il suo fratello da Bronde invece di Bronde quel giorno Turi Catania non poteva venire perché disse che non so dove è andata a me si sentiva male una cosa del genere e venne suo cognato e un altro ragazzo che non ricordo bene come si chiama però ho dato delle indicazioni per per identificarlo dico da Catania chi c'era poi come persona ancora? non ho capito lei ha detto che è venuto da Paternò e che è venuto da Bronte io le chiedevo i gruppi di Catania erano presenti in qualche modo a questa riunione? a questa riunione prima di venire i palimitani? si che poi non vennero e chi c'era? c'era Puglisi come il nome? di Catania parlo sto parlando di quelli di Catania si il nome di Puglisi Puglisi abbiamo detto e il nome? Carmelo Puglisi bene poi Carmelo Orazio Magri Benedetto Cocimano Daniele Nizza Antonio Bergamo Antonio Bergamo lo stesso Bergamo di cui stiamo parlando del Enzo Santa Paola Natale Filoromo Enzaiello non mi ricordo se vi era Dino questo è un Dino cammarata non me lo ricordo Natale Filoromo l'ho detto non mi sto ricordando altre persone in questo momento quindi eravate una decina undici persone all'incirca quanti siate? non li ho contati sì sì eravamo parecchi eravamo parecchi lei contava contava soltanto sulla presenza di più uomini per difendervi? sì eravate armati? sì eravamo armati e addirittura scesero con un borsone pieno d'armi ognuno aveva quelli del paese quelli di di Paternò e Bronde sceso dalle armi anche loro ma più che altri erano di quelli di Paternò di Tamandea di Franco Amandea e di suo fratello che tipo di armi sono state portate? armi corte o armi lunghe? c'era che io ricordo mi sembra di ricordare che c'era o no mi sembra ricordo che c'era un fucile a canneamotte e poi c'erano armi corte lei cosa aveva? un fucile corto era credo che avessero la canna tagliata lei cosa aveva? che tipo di arma aveva? io avevo una Luger addosso Enzaiello aveva una 7,65 e Orazio Magri aveva una 9,21 tutte queste persone che aspettavano i palermitani dove erano dove li attendevano? poi si nell'attesa si era programmato che tutte queste persone si dovevano dentro c'erano come posso spiegare siccome è un vecchio macello ci sono dei capannoni no? uno di fronte all'altro e quindi erano nascosti chi dietro i capannoni tutti un po' tutti nascosti però ad un certo punto nascosti per non far per non far capire ai palermitani un qualcosa di sbagliato no? dice come perché se non era come pensavamo noi si poteva rischiare una rottura definitiva no? e quindi poi però arrivò a un certo punto arrivò Andone Bergamo arrivò Andone Bergamo dice non sono venuti i palermitani non vengono questa cosa addirò fortemente Enzo Santa Paola e mi disse spessamente dice sai che devo fare su come vieni Angelo cioè suo cugino Angelo Santa Paola ma perché era già atteso Angelo Santa Paola? cosa? lei ha detto non ho capito lei ha detto mi disse Enzo sai chi doveva fare quando arriva Angelo Santa Paola le domando io Angelo doveva venire era prevista il suo arrivo in quel luogo? non mi ricordo in questo momento bene se era previsto o meno ricordo che ci andò a Natale Filoromo ad andarla a prendere e io ricordo che Enzo Santa Paola mi disse dice come vieni sai chi doveva fare e se ne andò se ne andò preso il suo autista e se ne andò ma perché quando i palermitani non vengono Enzo Santa Paola si arrabbia e come dire si dirige la sua rabbia su Angelo Santa Paola si dirige la rabbia su Angelo Santa Paola perché Angelo Santa Paola innanzitutto andò a Palermo senza autorizzazione perché fin quando Angelo Santa Paola non andava a Palermo Catania diciamo Enzo Santa Paola non aveva avuto interesse di prendere contatti con i palermitani tanto è vero che lo piccolo non riuscì mai a mettersi in contatto con noi Enzo Santa Paola poi era sopravvenuto che cosa l'omicidio di Nuccia Aurora vengono a sapere dell'incontro che si era fatto a Angelo Santa Paola con il lo piccolo che il lo piccolo gli disse tira dritto anche se c'è qualche parente nel mezzo coinvolto nell'omicidio di Nuccia Aurora quindi questo era l'insieme di tutte le cose per non parlare poi di tutto quello nato all'origine che Angelo Santa Paola non rispettava le regole gli mandava addirittura addirittura attraverso Natale Filoromo venne a sapere Enzo Santa Paola che Angelo Santa Paola diceva che quando nesce Nino Santa Paola dice all'ocquarenza dice magari Nino Santa Paola perché Nino Santa Paola ho saputo che gli mandava a dire dal carcere diceva come nesce faceva pezzi pezzi era tutto insieme però ascolti quello che io le chiedevo era tutto questo occupava da tempo tant'è che lei aveva dato l'incarico di ucciderlo in quel momento cos'è che fa arrabbiare Enzo Santa Paola fa arrabbiare il fattore che viene ignorato dai palermitani lo fa arrabbiare tantissimo questo Bergamo porta la notizia che per l'almitare non vengono Enzo Santa Paola si arrabbia quanti e quali ordini dà quanti e quali ordini dà si rivolge guardando a me dicendo come vene sai che tu che fare sai che tu che fare che eravamo in quel contesto perché se dico se dico io non mi ricordo se vi era preso in questo momento non mi ricordo se vi era presente Enzo Aiello non significa che Enzo Aiello era in un altro luogo qua stiamo parlando che Enzo Aiello e tutti gli altri siamo nel contesto in una zona ciccoscritta all'aperto di venti metri che Enzo Aiello tutte le volte che veniva Enzo Santa Paola era lui il principale che si metteva assieme a me a parlargli ora sto dicendo in questo istante non sto ricordando se Enzo Aiello era presente nel momento che mi disse sta parola si era allontanato ma allontanato non significa che se n'era andato si era allontanato a 5 metri 5 metri 10 metri con questo voglio dire però non lo sto ricordando in questo momento sai quello che devi fare e poi diede qualche altra indicazione a qualcun altro no lui come disse questa parola mi ricordo credo di ricordare che se ne andò se ne andò a prenderlo Natale Filoromo difatti ripeto in una zona dice comunque sapete sai chi tu c'ha a fare lui se ne andò dopo questa frase se ne andò salutò i presenti salutò Enzo Aiello salutò a me ma non agli altri i presenti quelli che erano là se ne andò dopo che se ne andò lui venne Angelo Santa Paola e quindi pensammo nel temere che Angelo Santa Paola potesse essere in compagnia dei palermitani come avvenne la prima volta che non vennero però Angelo Santa Paola ne fu a corrente e allora pensammo disse vuoi vedere che è la stessa cosa nel senso che non sono venuti però sono andati da Angelo a fargli sapere comunque sia si nascose fecemo nascondere nuovamente tutti quelli dei paesi e rimanemmo rimanemmo che eravamo a parlare con Angelo Santa Paola addirittura si è nascosto magari anche Puglisi Cammino Puglisi eravamo a parlare Santa Paola come è arrivato aspetti Santa Paola come è arrivato a piedi o a bordo Santa Paola è arrivato con un timaxi in compagnia di Nicola XVI e Filoramo che era andato a cercarlo c'era ancora o non c'era più no no Filoramo era presente lo portò lui lui lo accompagnò Filoramo fino a là sul luogo perché Angelo Santa Paola e Nicola XVI non conosceva quel posto là difatti l'espressione che fece che fece Angelo Santa Paola in particolare ricordo che fu Angelo Santa Paola disse dice ma cari ci pare paremo all'Occatomba quando arriva in questo luogo Angelo Santa Paola con Nicola XVI e Filoramo chi vede innanzitutto chi c'era a vista lui a vista vede Antonio Bergamo il cugino di Cammino Puglisi cioè Sebastiano Puglisi abbiamo visto siamo nel piazzale ancora fuori Capannone vede queste persone vede a me vede a Enzaiello vede a Orazio Magri lui si ferma si ferma sempre dentro questo mocello in disuso si ferma e c'era mi ricordo l'espressione sua che disse dice fa caldo dice entriamo dentro uno dei Capannone ed entrammo che eravamo dentro il Capannone a parlare io Orazio Magri Natale Filoromo Enzaiello Nicola XVI e lo stesso Angelo Santa Paola solo che Orazio Magri si mi sentì sparte si mi sentì sparte cioè vicino al muretto del Capannone perché vi era stato un precedente cioè le varie discussioni che erano accadute precedentemente discorsi di impresa e tutte queste cose varie una volta maltrattò male a Orazio Magri dicendo tu non puoi assistere perché non sei uomo d'onore non puoi assistere quindi Orazio Magri in quell'appuntamento si mise in disparte nel muro in attesa di un mio segnale perché qual'era la strategia che avevate ideato e allora la strategia ideata inizialmente devo fare un attimo un passaggio indietro di qualche sera prima perché si era parlato che si doveva si dovevano incontrare questi valermitani e allora eravamo con Enzaiello e Cambiallo Puglisi dicendo ma loro dice San Matte San Matte dice facciamo magari a Angelo quindi Angelo mi sta ricordando su questa frase che Angelo lo aspettavamo che doveva venire però lo doveva andare a prendere Natale Filoromo era sempre lui quello che lo doveva andare a prendere quindi dice San Matte allora facciamo dice magari facciamo dice a Angelo questo lo dice Cambiallo Puglisi ma che si gli si risponde non mi ricordo ora se gliel'ho risposto io Enzaiello e ci sono che potremmo fare che palemetane che palemetane si può fare una cosa chissà succede un mocello dice no ma se stavessi a mattere dice io io un pozzo dice dei 70 metri dice uno potremmo collagare si lasciò i discorsi si lasciarono così né sì né no io dovevo un pozzo dei 70 metri Enzaiello memorizza questa frase dei Puglisi che ha a disposizione un pozzo di 70 metri dove andare a collocare una volta ucciso Angelo Santa Paola quindi si arriva là i palemetani non vengono Enzo Santa Paola dice sapete sai chi doveva fare sapete chi doveva fare una cosa del genere sai chi doveva fare rivolta a me arriva Angelo Santa Paola io prima che arrivassi Angelo Santa Paola avevo concordato con Orazio Magri ci disse dato il fatto che lui non vuole che tu assisti tu ti metti laterale sul muro distante come io ti faccio il segnale tu intervieni nel senso estrai la pistola e spari a a Nicola XVI ci disse per Angelo Santa Paola me la vedo io però sempre ripeto siccome c'era quel discorso delle custode cautelare che dovevano arrestare Angelo Santa Paola che cosa avevo pensato avevo pensato di allungare di prendere tempo anche in quell'occasione rischiando a sua volta la mia vita perché precedentemente Enzo Santa Paola disse dice o tu o id avevo pensato di portare la scusa guarda che c'erano troppe persone e non si poteva fare una cosechista non potevamo mettere a rischio con i vari pendimenti che ci sono stati negli anni di mettere a sapere persone che non sapessero perché voglio precisare che non tutti i presenti sapevano che doveva essere ucciso Angelo Santa Paola i presenti che erano là altri una parte sapevano solo e erano venuti per l'incontro con i valemmetani quindi che successe successe che nel momento che stiamo parlando io Enzaiello in presenza di Natale Seloromo con Angelo Santa Paola e Nicola XVI mi giro per guardare a 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 quella mia girata non lo so che come la indesa la indesa fosse come il cenno che gli dovevo fare non lo so so solo che in un certo momento Orazio Magri si avvicina a a a Nicola XVI e gli esplode un solo io ricordo un solo colpo di pistola gli esplode e ebbeda l'angelo Santa Paola perché eravamo molto vicini tutti assieme con con entra e l'angelo Santa Paola che gli dice sul momento non si rende conto della situazione si 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 gli dice sul momento dice dice ma che come nasta ora passi vai passi vai che come nasta Orazio Magri ha dei tentennamenti mi guarda mi guarda come per dire ma che ci sta aspettando a ne c'era la pistola visto che tu mi hai detto gli avevo dato io gli avevo detto che dovevo essere io ad uccidere l'angelo Santa Paola ma io ero rimasto di sasso come tutti gli altri perché io non avevo fatto nessun segnale quindi non mi venne di estrarre la pistola e di sparare questi tentennamenti che passò qualche secondo i secondi che ci vogliono nell'angelo Santa Paola ne digli ora passi vai ora insomma guardandomi in faccia a me guardando l'angelo e gli spara un colpo anche ad angelo Santa Paola anzi gli dice ora per cui ti occuperei gli risponde questo nello sparargli no mi ricordo che gli sparò un colpo al al petto e lo fece indiesareggiare fai chiedendo lo cadere seduto credo un due metri seduto stesso angelo Santa Paola in presenza mia in presenza di di Enzaiello in presenza di Natale Siloromo che poi scappò fuori Natale Siloromo come vite gli sporo il secondo colpo ora siamo qui il secondo colpo glielo esclose in testa però io devo dire che io vedi perché stavo guardando e ero rimasto mai bloccato a guardare Angelo Santa Paola di fatto non vedi nemmeno Nicola XVI a terra nemmeno cadere lo vedi perché ero rimasto bloccato su Angelo Santa Paola e quindi vedi che il secondo colpo vedi l'orbita l'occhio vediamo lui era di fronte a me l'occhio sinistro rientrare nel secondo colpo gli esplorò Orazio Magri e quindi credo che sia stato quello il foro di entrata che uccise Angelo Santa Paola e XVI dove venne colpito? cosa? Nicola XVI dove venne colpito? Nicola XVI ci andò di dietro a Orazio Magri perché Nicola XVI che io mi ricordo era stavamo parlando che era sul mio laterale sul mio laterale Angelo Santa Paola di fianco a me e poi seguivo a venire Enzaiello e Natale Filoromo quindi era di fronte a me e ci andò di dietro si si ricordo che ci andò di dietro e egli esplose il colpo di dietro sulla sulla nuca non ho perché ripeto non ho visto bene diciamo però credo che sia sulla nuca laterale nuca perché ci andò di dietro frontale non gli sparò difatti Nicola XVI l'ho detto anche in un precedente verbale non si accorse nemmeno che gli avevano sparato talmente è stata istantanea la sua morte una volta che ci furono esplosi questi colpi di arma da fuoco gli altri cosa fecero quelli che erano nascosti nei capannoni che erano fuori bene quelli che erano fuori quando sentivano esplosare i colpi stavano venendo io li senti correre no perché eravamo quasi all'inizio dell'entrata del capannoni e quindi gli andai incontro dicendo state calmi state calmi come per dire perché loro non sapevano perché il primo che vedi e poi tutti gli altri dietro vedi ricordo a Camelopoglisi con un fucile nelle mani ci si stava a campo e non ha succeduto nel senso non nel senso era successo quello che era successo nel senso che credevano loro cioè che magari i coppi di pistola devono essere esposi Ancio Santa Paola o Nicola XVI questo era il timore che loro si sono messi tutti a correre questo ovviamente è un pensiero che sto dicendo io io so solo che li ho fermati nell'uscire li ho fermati e io ho detto che gli ho intimato di stare calmi cosa ne avete fatto dei cadaveri? praticamente in quel momento si adirò forte Enzaiello forse l'unica volta che lo vedi nervoso nervoso al massimo con Camelopoglisi fu nel momento in cui Enzaiello gli disse allora di quel pozzo un e due puzzo di 70 metri Camelopoglisi gli risposi quale puzzo? come quale puzzo? tu registra l'altra sera dice che avevi un pozzo di 70 metri ora uno la ma buttare dice ma io non l'hai rito questa cosa se io gliel'ho confermata a Puglisi a Camelopoglisi non mi ricordo se gliel'ho confermata sul momento o successivamente il sistema del caricatore ciste che aveva un posto di 70 metri comunque è successo che Enzaiello si è dovuto andare in macchina a cercare un posto dove andare a collocare i cadaveri e ricordo che mancò parecchio che ora poteva essere quando avvenne l'omicidio all'incirca si intende era nella tarda mattinata ora di pranzo perché ricordo ora di pranzo sai perché ricordo ora di pranzo perché poi perché vi era un sole alto poi quel sole si è andato e aspetta perché Enzaiello lo aspettammo parecchie ore perché non riuscivo a trovare il posto e ricordo che vi fu quel ragazzo quello di Bronde di cui non ricordo il nome quel lontano cugino di Franco Amantea che non se la sentiva più gli faceva paura quel posto dice qua il posto non mi sta piacendo il chiove e io gli dicevo sento ora ce ne stiamo andando stanno tornando e non mi ricordo non mi ricordo se Enzaiello se ne andò a cercare il posto in compagnia di Franco Amantea perché non mi ricordo che Franco Amantea aspettò lì con noi perché vedi che avvolsero in dei secchi neri i i cadaveri i cadaveri di Anza e Nicola Setici poi quando Enzo Aiello se ne andò a cercare il posto non ricordo che vi era presente la Sangamantea cioè che fece compagnia ad Enzaiello ad andare a cercare un posto dove collocare i cadaveri e comunque ritardarono Enzaiello ritardò un po' di ore e anzi faccio un passaggio di attrezzare perché a parte che si rica Lei stava dicendo che mancò diverso tempo riesce a quantificare questo tempo? Un'ora due ore tre ore non lo so più di due ore mancò ma aspettiamo tanto se ne andò pure il sole se ne andò pure il sole non saprei dirle se erano le tre se erano le quattro non saprei dirle su questo però mancò un bel po' E mentre aspettavate avete adottato altri accorgimenti altre cose? L'altro accorgimento fu che dissi a Sebastiano Puglisi di andare a di prendere il T-Max cioè lo scooter con cui venne Angelo Santavola e Nicola XVI e di andarlo a buttare a posteggiarlo a posteggiarlo nella stazione di Picocca e gli ho detto in presenza di Andone Bergamo se si va e se si va ci dietro va ci dietro e e quando posteggia il T-Max lo accompagna cosa Andone Bergamo dice che non lo capì so solo che si è impaurita a mente da Andone Bergamo che non capì più niente e se ne andò se ne andò non lo andò a prendere difatti fu costretto poi lo seppi successivamente Sebastiano Puglisi fu costretto ad andarsene a piedi fino a quartiere della Civita dalla zona industriale dove c'è la stazione Picocca fino a quartiere della Civita Ma mi scusi non ho capito una cosa tutto sommato questo macello per quello che lei mi dice era un luogo abbandonato perché non potevate lasciare lì questi cadavere e ve ne andavate? No dottoressa non si poteva fare perché vi era il guardiano e meno male che Enzaello gli è venuto quel pensiero ha avuto l'idea di dirgli a Guardiano dice sempre fate una passiata prima ancora che succedessero le esplosioni dei coppi da Madafogo prima che fossero esplose e prima che venisse lo stesso Angelo Santa Paola se non mi ricordo male comunque sia Enzaello gli disse dice fate una passiata dice ottimo Guardiano perché era lui stretta confidenza quindi come si poteva lasciare anche perché vi fu anche io ho definito se credo di ricordare una voce fuori cuore non mi ricordo di chi dei presenti disse dice ci potevamo ammazzare dice ammazziamo Magaro Guardiano e questa cosa no questa cosa anche Enzaello si ribellò dice non è che gli è chiede un buon red che trovai chiamò lavoratore dice no no e comunque dice insomma pensiamola diversamente nel senso di di cercare un luogo e mancò parecchio tempo parecchio tempo poi tornò dicendo dice tornò un po' nervoso dice che dice ha furiato dice furiamo un sacchi posti dice l'unico quattro avevo lo disse però non mi ricordo non mi ricordo dove disse furono caricati i cadavere in macchina e se ne andarono i presenti perché nel frattempo che Enzaello se ne andò a cercare un posto dove andare a collocare i cataveri fece andare io a casa Daniele Daniele Nizza e e Cocimano Benedetto Cocimano se voi ci sei andato nel sistema che stiamo tutta questa gente qua e sono rimasti solo quelli dei paesi io Cammelo Puglisi e ora sono lì oltre a quelli dei paesi che ho nominato senta ma il capannone in cui è avvenuto l'omicidio anzi nel capannone dove è avvenuto l'omicidio rimase sangue a terra o non ci fu un grande versamento di sangue sì no parecchio ne rimase parecchio sia di di Nicola XVI che di Angelo Santelò si riempì tutto talmente appunto tale che io gli disse che si misero a pulirlo con della paglia ma che non c'è niente dove puliziare ci sta in segale vedi se poi successivamente puoi tornare in questo capannone con dell'acido ci si muove in modo che ci si può taccare la bidone bidone inderi di acido per vedere se si può se possiamo annullare questa cosa poi mi fece capire che l'avrebbe fatto poi non so se lo fece ma di quello che ho capito non ci andò più a buttargli quell'acido ma quindi questi cadaveri come li avete caricati in macchina così sporchi i cadaveri come li abbiamo caricati li avevano avvolti loro in dei sacchi di spazzatura neri e li hanno caricati in una macchina nel portabagagli che macchina era? era una station wagon crigia che l'aveva l'aveva avuto in prestito Orazio Magri dopodiché dopo averli caricati la ricordo che che me lo puglisi mi disse non ce la fare buttare la macchina a Orazio aveva paura che lo fermassero per strada e ci si accucerano a fare buttare questa macchina e qualcuno non gliela fare portare a Orazio perché gli toccava a lui perché la macchina era sua l'aveva avuta in prestito a lui e gli toccava quindi mi rivolsi al fratello di Franco Amante dicendogli una buttuta così ci si hai la patente tu hai la patente e gli dice si allora porta la macchina ci si porta la macchina e vedi che Franco Amante era un pochettino diventò bianco in faccia come dire ci ha toccato a mio frate questa cosa comunque sia poi se ne andarono tutti insieme ad andare a collocare questi cataveri e ci fu una fila di macchine a collocare questi cataveri dove poi sono stati trovati senta ma lei ha detto che partì un corteo di macchina o qualcosa di simile mi sa dire chi era che andò ad accompagnare i cadaveri ad accompagnare come che era il fratello di Amantea Franco che guidava la macchina con i cadavi dentro si guidava la macchina Massimo Amantea solo lui poi tutti gli altri vi era tipo un corteo di macchine perché tutti gli altri erano Enza Ello Cammelo Puglisi Orazio Magri quel ragazzo di di Bronda assieme al al cognato di di Turi Turi Catania Sampatore Catania però poi arrivato a un certo punto non so non so non so dire se loro partirono tutti per fargli da staffetta tutte queste macchine per mettersi davanti sarà un posto di blocco però non so poi la gestione di tutto di tutto ciò che avvenne successivamente rimase a Enza Ello e a Cammelo Puglisi so solo che l'indomani l'indomani o la sera stessa o l'indomani non mi ricordo e gli sti Enza Ello dice i tici della Pasquaglia hanno ora sia a Franco a Mantea che a suo fratello Massimo li ho dovuti sfogliare i viciri che i pantoloncini e i cebattoli di altre persone perché da quello che io ho capito tra i racconti di Enza Ello si erano riempiti addosso di sangue perché i cadaveri il sangue ne persero molto sia sul posto che nella macchina e mi disse dice a meno da quello che ho capito dice c'era insomma erano tutti macchiati di sangue si erano macchiati di sangue sia a Franco a Mantea che a suo fratello Massimo perché sono stati mi hanno nominato gli unici due che gli ha tolto tutto dice ci lo vai tutto cittare tutte le robe che avevano e ci mette pantaloncini e ci abbatte ho capito Aiello le disse anche dove portarono questi cadaveri si me lo disse però non ricordavo me lo disse ma non non mi ricorda no si c'è stato c'è stato c'è stato un fu nelle zone di fu nelle zone di Ramaca dove furono ritrovati però perché ricordo però in tempi successivi e poi disse le contraddizioni no della della situazione questo è un commento che feci con me stesso perché quando mi fu l'omicidio di diciamo il reggente di Lentini di un di un soldato della famiglia di Lentini che fu trovato alle porte di Catania Enzaiello si adirò con i lentinesi dicendo la frase dice a Catania a Catania a nostra casa noi a Catania è riferito al cadavere diciamo quindi la riflessione che feci con me stesso poi in tempi successivi pensando a questa cosa le contraddizioni della vita anche tu non chiederei di Catania però tu ci stai chiedendo la ramacca usando il suo termine quindi da questo ricordo che lui mi dice cosa ne fecero dei cadaveri cosa ne fecero dei cadaveri si gli ho disse Enzaiello cosa ne fecero dei cadaveri si mi ricordo che a uno di loro non mi ricordo se disse Enzaiello l'altro dice ma perché c'erano il bruciastolo dice perché le città di sacchi erano pieno di imbronte sangue ne pesano dice erano tutti pieno di imbronte questo è stato almeno uno di loro ma non mi ricordo chi onestamente chi mi disse una cosa del genere sulla mia domanda il motivo perché le avevano bruciate perché dice erano pieni di imbronte i sacchi perché presto troppo sangue dice da da quello che mi dissero e cadì anche la macchina dove furono allocati nel portabagagli si sporcò infatti dice da macchina e da maniera non ce la potevo ammottonare dice la tua macchina era a lavare dice nel lavaggio i cadaveri o Angelo Santa Paolo Nicola 16 avevano degli effetti personali delle cose di cui vi siete occupati ricordo ricordo perché quando gli misero li stavano avvolgendo nei sacchi dove morirono Angelo e Nicola 16 io non volevo più entrare uscire non volevo più entrare là dentro e ricordo che uno dei presenti non mi ricordo chi mentre avvolgevano i cadavere usci con un paio di tocchiale sembra che c'era qualche altro oggetto mi sembra un paio di tocchiali e un orologio dice chiama a fare con questi chiama a fare mi sono stati condannati questa è stata la mia seguente poi non so più che fine fece io avevo detto di buttarli erano un paio di tocchiali e un orologio se mi ricordo bene il paio di tocchiali è sicuro al 100% l'orologio sì pure l'orologio sì un paio di tocchiali e un orologio poi lei parlò con Enzo Antapaola per raccontargli quello che era accaduto quello che era accaduto poi ci incontrammo no si incontrò anche in Sarello ci fu un altro incontro però non non mi ricordo onestamente perché poi avvenne successivamente successivamente all'omicidio di Enzo Antapaola avvenne poi oltre l'operazione a Cancello avvenne anche l'operazione quella di Plutone dove fu arrestato Enzo Antapaola che comunque Enzo Antapaola fu arrestato dopo l'omicidio Enzo Antapaola però non mi ricordo onestamente se si commentò sta cosa Grazie a tutti